Salve a tutte ragazze e ragazzi, allora purtroppo sono costretta a fare una nuova estrazione perché sono riuscita ad assegnare, quando ho fatto la seconda estrazione, solamente uno dei due pacchi che avrei dovuto assegnare, in quanto Donatella Spadaro, che adesso vi faccio vedere, scusatemi ma sto in una posizione pazzesca, Donatella Spadaro che aveva il numero 39, potete controllare nel video della seconda estrazione, alla quale era stato assegnato il pacco numero 2, non si è fatta viva purtroppo, da nessuna parte, quindi voglio assolutamente assegnare questo pacco numero 2, il pacco con il regalino ovviamente, quindi procediamo ad una nuova estrazione e poi ne parliamo. Ovviamente se usciranno i numeri che sono già stati estratti, ripeteremo l'estrazione, andiamo a generare. Numero 15, al numero 15 corrisponde il nome di Maudia 81, allora tesoro ve lo faccio rivedere bene, scusatemi, eccolo qui Maudia 81, allora Maudia 81 hai tempo 15 giorni da oggi, avrei dovuto fare l'estrazione ieri, chiedo scusa ma non mi è stato possibile, quindi oggi è 5 novembre, hai tempo 15 giorni, quindi il 20 novembre, hai tempo fino al 20 novembre per farti viva tesoro, o sotto questo video con un messaggio privato o non privato come vuoi, oppure niente, insomma qui sotto diciamo, oppure mi scrivi nella mail, insomma privatamente nella mail. Mi dispiace care ragazze, mi dispiace per Donatella Spadaro, ma ci sono delle, l'unica regolina, insomma era quella di contattare entro 15 giorni. Quindi io vi saluto, spero vivamente di poter assegnare questo pacco, ragazze è difficilissimo assegnarvi questi pacchi, non pensavo assolutamente. Io vi abbraccio e vi rimando alla visione dei prossimi video in tutta tranquillità. Mi raccomando Maudia 81, fatti viva! Un bacio a tutte, ciao ragazzi e ragazzi!